Buonasera a chi è in sala, a chi è collegato da remoto. Siamo arrivati alla fine, all'ultima giornata del ciclo La Filosofia. Incontro agli altri saperi. Io sono molto contenta perché è un ciclo lungo di sei giornate, molto denso di riferimenti. Parto subito con i ringraziamenti, non vorrei dimenticare. Voglio ringraziare l'Accademia degli Agianti che ci ha ospitato, nella persona del professor Stefano Ferrari, il patrocinio dell'università, il responsabile scientifico, il professore Alessandro Palazzo, la logistica dell'Accademia degli Agianti e in particolar modo i relatori, l'ultimo relatore che sto per presentarvi, che si sono seguiti in queste giornate e tutte le persone che si sono collegate, sono venute in presenza, dandoci la loro fiducia. Io devo dire nella composizione del ciclo non poteva mancare la biologia e la biologia soprattutto nel momento storico che vedremo, fine ottocento, inizio novecento, di grande complessità e anche frattura, frattura e continuità. Passo subito a presentarvi il relatore di questa sera, dal professor Carlo Brentari, ricercatore presso il Dipartimento di Lettere e Filosofie dell'Università degli Studi di Trento. Nel 2002 ha conseguito un dottorato in filosofia alla Karl-Franzen Universität di Graz, dedicato all'antropologia filosofica della filosofa americana Susan Langer. E' noto a livello internazionale come esperto dell'opera del biologo e filosofo estone tedesco Jakob von Ustl, ideatore della teoria della Umwelt, ambiente soggettivo, specie specifico degli animali non umani. Si occupa di etica ambientale, antropologia filosofica, ontologia e filosofia della natura. Suoi corsi di antropologia filosofica, bioetica, filosofia del linguaggio e morale. Ha pubblicato numerosi articoli, scientifici e monografie, la nascita della coscienza simbolica, l'antropologia filosofica di Susan Langer, 2007, Jakob von Ustl, The Discovery of the Unger Between Biosemiotics and Theoretical Biology, Springer, 2015, Il cerchio del possibile, identità, organismo e persona nella filosofia der Natur di Nikolai Achtman, Ortotes 2019. Gli lascio la parola, la filosofia incontra la biologia, il ritorno del finalismo nella biologia contemporanea, il caso del neovitalismo. Prego, professore. Bene, grazie per l'invito e per parlare su un tema che mi è molto caro, quello degli intrecci tra il pensiero filosofico e lo studio degli esseri viventi. È un ambito interdisciplinare che ha una lunghissima tradizione. Si può dire che la biologia nasce interdisciplinare. Noi ci occuperemo in particolare di un periodo, come ha anticipato la moderatrice, che va tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento e del Ventesimo secolo. Ma in realtà la mia presentazione non può che partire da Aristotele, perché come vedrete le riprese di alcune correnti interne alla biologia teorica, cioè il neovitalismo di questo periodo, i cui autori principali vedremo saranno Hans Dreisch e Jacob von Huxkel, espressamente si rifarà ad Aristotele con citazioni molto dirette e con una ripresa diretta anche della terminologia aristotelica. Quindi vogliatemi perdonare se inizio proprio dall'inizio, da un periodo della storia della filosofia in cui non c'era ancora una separazione disciplinare netta tra... Vi dicevo, perdonatemi se parto dall'inizio, da un periodo in cui non c'era ancora una netta separazione disciplinare tra la filosofia e le altre discipline e parto in particolare da Aristotele. Prima di tutto cerchiamo di capire perché i filosofi si occupavano di esseri viventi. Alcuni tratti ontologici degli esseri viventi hanno sempre attirato l'attenzione dei filosofi. La capacità di autoregolazione, ad esempio, di un organismo, la capacità di riprodurre se stesso in altra forma, cioè della generazione, casi poi eccezionali di rigenerazione che soltanto gli esseri viventi, pensate alle salamandre oppure ad altri anfibi, sono in grado di attuare. Ecco, tutti questi processi facevano sospettare fin dall'inizio che nel vivente ci fosse qualcosa di più rispetto agli enti inanimati. Ora la filosofia, con il suo intento di precisazione ontologica, si è sempre occupata di cercare di definire cosa fosse questo qualcosa in più e fin dall'inizio si sono definite due posizioni molto nette. La prima, inizialmente già nel pensiero greco, addirittura tra i presocratici la possiamo definire materialista, cioè l'idea che il vivente in realtà non veda la partecipazione di forze o istanze superiori a quelle della materia. In epoca moderna e contemporanea questa posizione diventa poi una posizione più precisa quando dirà che nel vivente non c'è nulla di più di quanto non si possa riscontrare a livello fisico e chimico, quindi che non ci sono proprietà aggiuntive. La posizione opposta, il cui antecedente più illustre è Aristotele e che ha prevalso per molti secoli, è quella per cui invece il vivente si comprende soltanto se si aggiunge alla materia, per i greci e per noi alle proprietà fisico-chimiche, qualche altro tipo di influssi, qualche altro tipo di istanza o di forza che solitamente vengono chiamate istanze vitali, da cui il termine vitalismo. Il termine vitalismo vuol dire in pratica che dietro gli esseri viventi c'è qualcosa dal punto di vista ontologico che va al di là della materia fisica e chimica anche altamente organizzata, quindi che non basta un aumento di complessità dal punto di vista chimico-fisico per avere la vita, cosa che invece è sostenuta dallo schieramento opposto, diciamo così. A partire dal 600 anche lo schieramento opposto prende un nome ben preciso che è quello di meccanicista, con il pensiero soprattutto di Descartes, che poi viene ripreso da molti altri. Anticipo già che non farò la storia completa perché è impossibile, vi dico anche che le diverse combinazioni di meccanicismo e vitalismo che si ritrovano a partire dal 600 e fino al XX secolo sono moltissime, quindi ci sono tantissime combinazioni parziali, varianti individuali a seconda dei singoli autori. Noi faremo soltanto una breve ricognizione sulle origini e poi saltiamo al neo-vitalismo cercando di mantenere un po' di coerenza. Vi dicevo perché Aristotele? Aristotele è il vitalista principale nel mondo classico, la sua influenza resterà determinante anche in seguito perché non solo vede l'essere vivente come organizzato da istanze superiori, che per lui sono delle istanze di tipo formale, ben distinte da quelle materiali, ma interpreta anche gli enti non viventi, anche gli enti inorganici, in chiave tendenzialmente vitalista. Perché se, non so se ripensate brevemente all'esempio che fa Aristotele della statua, le quattro cause. Quando voi esaminate una statua avete quattro tipologie di cause, c'è una causa formale che è la forma che assume la statua, pensate la statua di un uomo, una causa efficiente che è l'artista che la scolpisce, una causa materiale che è il marmo e poi c'è una causa finale che rappresenta lo stadio compiuto del processo. La causa finale e la causa formale per Aristotele non sono una peculiarità soltanto dei viventi, ma sono una peculiarità di tutti gli enti. Quindi tendenzialmente qualunque ente è inserito in un processo di sviluppo teleologico che lo porta verso un compiuto stadio di sviluppo. Pensate brevemente alla teoria dei luoghi naturali. Per Aristotele il movimento di un grave si spiega ad esempio perché una pietra vuole raggiungere il suo luogo naturale, che è l'assetto compiuto delle relazioni tra i quattro elementi, terra, aria, fuoco, terra, acqua, aria e fuoco. Il che significa che anche ciò che noi interpretiamo in chiave meccanicistica oggi, tendenzialmente meccanicistica oggi, per Aristotele invece obbedisce a una tendenza esattamente come il vivente obbedisce a delle tendenze e laddove c'è una tendenza per Aristotele c'è una causa finale, cioè c'è un'istanza o una forma futura da raggiungere. Per questo vi dicevo Aristotele non poteva che essere vitalista in biologia perché essendo il vitalismo strettamente collegato con la teleologia, cioè con la finalità, in qualche modo vedeva finalità ovunque e a maggior ragione, a maggior ragione nei processi viventi. C'è chi dice addirittura che anche la fisica in Aristotele sembra molto imparentata con la biologia perché tutto è in tessuto di tendenze, tutto è in tessuto da scopi da raggiungere. Questo però è ancora un po' troppo generico perché come vedete da questa slide io non vorrei limitarmi a dire che Aristotele, affermando la necessità di cause finali, si limita a dire che il vivente necessariamente deve raggiungere degli stati ulteriori. va ancora più nel dettaglio e cerca di proporre delle tesi più precise che hanno un carattere empirico, quindi non soltanto delle tesi ontologiche generali sul fatto che tutto ciò che esiste è inserito in una struttura armonica di tendenze teleologiche. Questo ci spiega il perché lui sia ovviamente il precursore, ma non ci dice ancora come possa essere utilizzata in casi particolari questo tipo di vitalismo. L'esempio di utilizzo empirico che vorrei mostrarvi, empirico nel senso per cui una tesi particolare viene usata per risolvere un problema concreto e questo utilizzo in Aristotele lo trovate per spiegare la generazione degli animali. Ora Aristotele, se leggete qui la slide, dice inizialmente vi fa vedere che nella norma gli animali si generano da altri animali secondo la parentela della forma. Per Aristotele il portatore concreto della forma nella riproduzione sessuale è il seme che va a conferire la forma al portatore dell'elemento materiale che è l'ovulo. E questa è la norma, diciamo così. La forma funziona come causa finale perché contiene in nuce lo stato futuro dell'animale adulto che dovrà essere raggiunto. In casi in cui è particolarmente difficile seguire il processo riproduttivo, Aristotele sospende la parentela della forma e dice che non si riesce a capire esattamente da dove provenga l'istanza formativa. Quando non riesce a capirlo ricorre a una teoria che è molto antica, già l'avevano già riproposta i presocratici, ma si ritrova anche in erodoto e in molti altri, che è quella della generazione spontanea. La generazione spontanea è una teoria che ha due aspetti a mio avviso. Da una parte è un aspetto emotivamente molto coinvolgente che è quello di immaginare la nascita della vita dalla materia inorganica come una sorta di maternage, cioè come una sorta di ospitalità profonda della materia soprattutto umida, calda, in putrefazione, quindi cose molto evocative da un lato. Dall'altra parte però Aristotele ne fa un uso, vi dicevo, empiricamente molto preciso perché vi ricorre soltanto quando non sa spiegare in altri modi la generazione degli animali. Un caso tipico è quello delle anguille che vedete qua, che vi ho riportato, perché sapete che le anguille si riproducono nel Mar dei Sargassi, non vedrete mai nel Mediterraneo un'anguilla più piccola di 10 centimetri. Inoltre, come ricorda qui Aristotele, nessuno ha mai visto un'anguilla con delle uova perché l'apparato riproduttivo dell'anguilla matura mentre le anguille migrano verso il Mar dei Sargassi per andare a riprodursi là. Ecco, questo lo spinge a utilizzare un'ipotesi che è fortemente vitalista che è quella della generazione spontanea di questi animali. Ma altri casi tipici sono quelli in cui uova e larve sono troppo piccole per essere visti con gli strumenti scientifici del tempo. Allora a quel punto un po' tutti ricorrono all'idea della generazione spontanea. Se vedete l'ultima parte di questa slide avete anche proprio un esempio del perché la generazione spontanea sia un caso estremo di vitalismo, proprio un caso da manuale. Nella Terra, scrive Aristotele, è presente l'acqua. Nell'acqua il pneuma e in questo dappertutto c'è calore animante. Di conseguenza tutte le cose sono in certo modo piene di anima. Piene di anima ricorda tutto è pieno di dei, se volete, di talete, ma quello che conta qui è che anche il logico Aristotele che quando può cerca di identificare delle cause precise. Sopra diceva gli animali sono gerati da animali secondo la parentela della forma. In altri casi invece preferisce dire tutto è pieno di anima e questo ci aiuta a capire quei casi di riproduzione, o meglio scusate, di produzione del vivente che non possono essere spiegati in altro modo. Dal punto di vista filosofico pone molti problemi perché da un lato Aristotele se ammettesse che esistono delle forme, per così dire, allo stato puro che generano delle anguille o altri animali dovrebbe tornare quasi a una forma di platonismo per cui la forma sarebbe staccata dalla materia. E di solito invece per lui la forma è legata alla materia nel sinoro e questo è il caso proprio della parentela della forma con cui gli animali solitamente si riproducono. Ovviamente lui non vuole arrivare ad affermare l'esistenza indipendente delle forme perché uscirebbe completamente dalla sua posizione per cui l'essenza è strettamente legata alla materia. L'altra soluzione è quella che vedete qua sotto dalla metafisica. Dice le cose che si generano da sé immediatamente sono tutte quelle di cui la materia ha tale potenza che da sé stessa si mette in movimento. Quindi la materia arriva quasi a sostituire il principio formale per una potenza generativa che vi dicevo fa molto problema perché è un po' fuori dallo strumentario teorico consueto di Aristotele. La materia muove così come muove il seme eppure scrive sopra il seme opera similmente all'artefice e alla specie che è eidos cioè la forma in potenza. Quindi ma allora si arriva ad affermare che la materia ha in sé la forma in potenza da qualche parte e in qualche caso. Non voglio soffermarmi ulteriormente volevo solo farvi notare come Aristotele sia sicuramente un vitalista in generale se per vitalismo intendiamo l'operato sulla materia della forma. In alcuni casi adotta addirittura forme estreme di vitalismo che sono quelle in cui senza sapere precisamente quale sia il portatore materiale della forma afferma che la materia ha una tale potenza in sé stessa e ricorre secondo me anche all'aspetto evocativo e poetico della teoria non solo a quello logico ma anche all'aspetto evocativo e poetico che ha tanto affascinato gli antichi. Sono partito in questo modo per molti motivi un po' per introdurre gradualmente la questione ma anche per farvi capire come le tesi di tipo vitalistico e neovitalistico possano essere utilizzate per risolvere problemi precisi quindi non soltanto in maniera vaga ma per risolvere precisi problemi che nascono dall'osservazione della realtà come vedremo questo non accadrà più per quanto riguarda la generazione qui abbiamo quella che a mio avviso è il colpo di grazia la teoria della generazione spontanea che è la confutazione di Francesco Redi scienziato intellettuale italiano che nell'esperienza intorno alla generazione degli insetti diciamo che almeno per quanto riguarda la generazione spontanea di animali di dimensioni abbastanza grandi pone un po' la parola fine Redi è vissuto in un periodo fortunato della storia della biologia in cui si potevano fare gli esperimenti molto facili con poco e avere risultati straordinari in pratica Redi per confutare la teoria della generazione spontanea degli insetti prende dei vasetti della carne e pone della carne in alcuni vasi che lascia aperti altri vasi invece li chiude con una garza altri vasi li chiude con una rete dalle dimensioni intermedie e nota semplicemente che laddove c'è una garza a coprire il vaso non si creano larve di mosca è procedimento sperimentale classico infatti era un galileiano però fatto con poco e con risultati straordinari i risultati sono quelli che vedete qua lui nel 1600 riesce finalmente a dire Aristotele seguitato da moderni anche da autori moderni che dà ad intendere che le uova si nascono da solo si generano da sole e poi anche le larve si generano da sole nella carne in putrefazione si ingannò al certo perché in realtà si moltiplicano poi all'infinito basta che possa entrare anche una sola singola musca ci sono molti altri casi poi di confutazioni simili a queste tenete presente che più si va poi nel piccolo e più bisogna aspettare perché ovviamente quando si inventa il microscopio si possono iniziare a fare osservazioni anche a livello minore e anche lì si identificheranno dei germi che poi portano delle uova microscopiche che poi portano allo sviluppo di determinati animali quindi non sarà più qui che ci saranno nozioni vitalistiche simili a quelle che abbiamo visto legate alla generazione spontanea sarà invece in un altro ambito estremamente affascinante della storia della biologia teorica che è l'embriologia anche qui possiamo brevissimamente tornare ad Aristotele l'embriologia è un problema perché se voi osservate dall'esterno il processo con cui una cellula fecondata si differenzia senza avere le nostre odiane cognizioni di genetica non avete idea da dove provengano le cause che differenziano i tessuti e che li organizzano in diversi arti in diversi organi perché voi non vedete altro se non una quando quando disponete di un microscopio una cellula che si differenzia si separa e separandosi diventa qualcosa di straordinariamente complesso per questo Aristotele qui aveva introdotto una nozione formale sempre molto precisa che era quella di entelechia entelechia significa ciò che ha in sé stesso il fine l'entelechia essendo una forma è immateriale questo è importante per il nostro problema adesso della ripresa del vitalismo come tutte le forme anche l'entelechia è immateriale ma è ovvio che le forme siano immateriale perché Aristotele costituisce la riflessione sulla forma proprio tramite analogia tra forma e materia quindi per definizione la forma è immateriale perché va a formare la materia ovviamente poi Aristotele essendo un filosofo molto poi concreto afferma che non si dà un'esistenza separata della forma che la forma esiste sempre in connessione con la materia nel sinolo ma dal punto di vista logico e concettuale la forma è immateriale la forma particolare che guida lo sviluppo embrionale viene definita entelechia e va a rappresentare per molti secoli di embriologia anche empirica una nozione ineliminabile chi osserva poi anche con strumenti sempre più moderni lo sviluppo di un embrione o di un uovo fecundato non vede nulla nella materia che possa rendere conto di tanta differenziazione e quindi tendenzialmente è portato a postulare l'esistenza di un'istanza sovramateriale ovviamente è un problema perché uno scienziato andando avanti con la scienza moderna non può più postulare l'esistenza di un'istanza sovramateriale per principio cioè dire qui è in azione qualcosa che non vediamo e non potremo mai vedere non solo ma il ricorso a cause formali e a cause finali ci crea problemi non solo nello spazio cioè legate a quello che vediamo concretamente nello spazio ma anche nei confronti del tempo perché se ci pensate la causa finale introduce una sorta di retroazione cioè l'entelechia pian piano viene a essere pensata come una sorta di calamita le calamite sono attive nello spazio in fisica l'entelechia invece è una calamita attiva nel tempo è uno stato futuro che attira a sé i processi di organizzazione e gli dà forma gli dà struttura e li porta fino a un determinato fine il problema è che noi tendenzialmente non accettiamo che ci siano questo tipo di letterazioni del futuro sul passato cioè tendenzialmente pensiamo che nel mondo naturale le cause vengano prima dei fenomeni da spiegare e non pensiamo che possano esserci e qui faccio una piccola critica a Aristotele che per me resta un filosofo geniale ma che è stato un po' truffaldino quando ha esemplificato la teoria delle quattro cause utilizzando una statua perché ovviamente la causa finale nella statua è il momento in cui l'artista conclude la statua e dice il processo di formazione è concluso perché è un po' truffaldino perché ovviamente in questo caso la causa finale ha un rappresentante che viene prima del processo di creazione della statua medesima che è l'idea nella mente dell'artefice se voi utilizzate le cause finali nel mondo naturale nel mondo naturale non c'è nessun artefice che abbia in mente quello che va raggiunto e quindi effettivamente la causa finale è dopo è nel tempo è nel futuro e non ha nessun rappresentante nessuno che la porti ad agire nel presente come avviene invece nel caso della statua grazie all'artefice del resto vi ricordate qua sopra il seme opera similmente all'artefice scriveva nella riproduzione scriveva Aristotele il seme è la causa formale e anche qui dice opera similmente all'artefice il problema è che a mio avviso l'artefice ha una mente nella mente c'è il rappresentante simbolico semiotico dello stato da raggiungere che aiuta il processo a svilupparsi verso un certo fine ora vi dicevo tornando al nostro neovitalismo altrimenti divago troppo il retaggio del vitalismo classico ci lascia con un problema di tipo spaziale perché noi non vediamo l'entelechia anzi programmaticamente non possiamo vedere la forma nella materia finché non ci arriva perché la materia di per sé è amorfa dal punto di vista del vivente ovviamente ha altri tipi di forma fisica ma dal punto di vista del vivente è amorfa ci lascia anche con dei problemi dal punto di vista del tempo perché l'entelechia essendo la rappresentante dello stato adulto dell'individuo in qualche modo deve dobbiamo accettare che retroagisca nel tempo orientando il processo di differenziazione embrionale ora vi dicevo probabilmente l'ultimo a usare il termine entelechia in questo senso è stato il biologo e che era anche molto filosofo Hans Risch che negli anni tra il 1891 e il 1900 soggiorna in una straordinaria stazione scientifica italiana che era stazione zoologica Anton Dorn a Napoli in cui in quegli anni si incontrano moltissimi esponenti sia del fronte vitalista sia del fronte meccanicista gli esperimenti che con la stazione zoologica Anton Dorn è una stazione ai tempi di proprietà del governo tedesco però realizzata per fare studi nel Mediterraneo e quindi non è un caso se ospita moltissimi studiosi tedeschi da Drisch a Von Huxkul non solo e anche francesi come Loeb ma molti altri e Drisch va alla stazione Anton Dorn con un programma di ricerca ben preciso cioè lui vuole verificare l'ipotesi di un altro embriologo tedesco che era Wilhelm Rux su che cosa produca il processo di differenziazione e di sviluppo embrionale Rux era il sostenitore di una teoria meccanicistica che si chiamava teoria del mosaico Rux non accettava l'idea che l'embrione si sviluppi perché una forza immateriale orienta il suo processo di differenziazione preferiva affermare che quando noi avremmo avuto a disposizione dei mezzi sufficienti tecnici microscopici diciamo così tecnici proprio che andrà a vedere quello che avremmo trovato sarebbe stata una struttura a mosaico ma una struttura fisica che si sarebbe in qualche modo ampliata è una rivisitazione di una teoria anche questa molto più vecchia che risale a Malpighi Spallanzani che è quella del preformismo il preformismo affermava che nell'embrione c'è una piccola struttura fisica che non fa altro che crescere in scala ecco immaginatevi ovviamente non si poteva vedere perché mancavano i mezzi tecnici ma è il modo di rispondere all'idea al postulato di istanze sovramateriali la risposta è no noi non lo vediamo ancora ma nell'embrione ci deve essere una struttura una qualche insieme di una configurazione in miniatura che in qualche modo poi si espanderà e porterà a quello che noi conosciamo quindi la differenziazione a quel punto diventa solo apparente perché tutte le differenze sono già contenute in nuce nell'embrione solo che sono troppo piccole per essere viste Rooks aveva questa idea quindi la chiamava teoria del mosaico immaginate un mosaico che è solo abbozzato che sarà poi l'organismo futuro la crescita embrionale praticamente dovrebbe soltanto completare aggiungendo i tasselli finché voi arrivate alla fine alla struttura visibile al mosaico in grande scala fondamentalmente Rooks aveva fatto un esperimento sulle uova di rana per affermare questa sua teoria cioè aveva sezionato un uovo di rana fecondato e ha detto se io taglio quest'uovo in due ovviamente rompo il mosaico e quindi anche se effettivamente questa materia ha una proprietà misteriosa di continuare a crescere non avrò un individuo completo e questa l'esperimento confermò la sua la sua teoria cioè sezionato l'uovo di rana l'embrione o meglio le due metà crebbero ancora un po' ma crebbero male asimmetriche e poi morirono torniamo al nostro Drisch Drisch vi dicevo va alla alla stazione Anton Dorn con l'idea di verificare empiricamente la tesi preformista o meglio si chiamava teoria del mosaico di Rooks su un altro animale che è il riccio di mare cambiando animale cambia un po' anche la vicenda perché Hans Drisch ripete l'esperimento seziona l'uovo di riccio di mare in due parti e qui qui purtroppo questo studio non è tradotto in italiano Drisch scrive quasi solo in inglese il suo testo più famoso è di localizzazione morphogenetica forgange scusate queste qui invece sono delle Gifford Lectures che da nel 1907 1908 l'esperimento del 1891 questo sull'uovo di rana poi ne parla in di localizzazione morphogenetica forgange e poi lo espone in inglese in due conferenze un po' più divulgative che sono quelle che vi ho riportato qui sono vi dicevo anche abbastanza in presa diretta perché qui dice Drisch io ripeto ho ripetuto l'esperimento di Rooks sull'uovo di rana però ho utilizzato l'uovo di riccio di mare e le cose sono state molto diverse turned out as they were bound to do and not as I had expected ho avuto una sorpresa quello che ho visto è stato una gastrula intera gastrula è uno stadio di sviluppo iniziale dell'uovo fecondato che si differenzia mi sembra in otto in otto cellule e poi continua dice Drisch il suo sviluppo normale questa piccola ma intera gastrula poi è stata seguita da una altrettanto intera quindi non sezionata larva eccetera eccetera e lui ha avuto alla fine due ricci di mare di piccole dimensioni ma perfettamente completi ora la sua conclusione non conoscendo ovviamente la teoria del DNA che in certi casi in certi casi che ovviamente vi dice che le informazioni sono complete a livello di ogni cellula dipende soltanto se ci sono a livello staminale le condizioni adatte per poterle sviluppare in alcuni organismi queste condizioni si mantengono più a lungo ed è per quello che molti organismi hanno anche capacità rigenerative tutto questo Drish non lo sapeva quindi lui quello che sapeva è che secondo lui non c'è non c'era nell'uovo fecondato nessuna struttura fisica questa è la sua teoria non c'è nessuna struttura fisica perché il bistoli la taglierebbe e se non c'è nessuna struttura fisica bisogna tornare all'entelechia per questo vi dicevo è un ritorno empirista del vitalismo perché qui si ricorre al vitalismo per risolvere un problema concreto non è una visione del mondo o meglio è una visione del mondo biologico che però ci si rende conto deve essere calata nel concreto del singolo esperimento perché altrimenti nel 1891 non risulta più credibile se la si afferma come visione generale della realtà come faceva Aristotele come legge ontologica generale il vitalismo e il riferimento a cause finali non è più credibile bisogna farlo soltanto quando è l'unica soluzione possibile in base alle conoscenze dell'epoca per risolvere un problema particolare e nel suo caso ecco questa è stata la conclusione non dovremmo dare un nome al nostro fattore vitalista vitalistico autonomo chiamiamolo fattore e ovviamente aveva già in mente per cosa stessa in questa e ovviamente fattore entelechia certo faremo così e non è senza intento che scegliamo di mettere questa lettera e per rappresentarlo almeno provvisoriamente perché il grande padre della filosofia sistematica Aristotele come molti di voi sapranno può essere considerato come il fondatore della biologia teorica più ancora è stato il primo vitalista della storia perché tutta la sua biologia teorica è completamente vitalismo è un esplicito riconoscimento di un di una un rapporto di filiazione che non si è mai interrotto da Aristotele fino agli ultimi vitalisti questi sono probabilmente gli ultimi vitalisti di questo tipo adesso non voglio poi anticiparvi le mie conclusioni ma il vitalismo probabilmente è quasi del tutto scomparso ma non l'altra caratteristica della biologia aristotelica che è il finalismo sono collegati sono molto strettamente collegati ho cercato di farvi vedere il collegamento laddove la nozione di forma o di entelechia è strettamente legata alla nozione di fine e lì c'è il collegamento tra vitalismo e finalismo ma vi dicevo tendenzialmente il vitalismo probabilmente è scomparso con questi ultimi autori ma non la tentazione ricorrente della biologia che è la teleologia cioè trovare qualche spiegazione di tipo teleologico ma su questo magari ne parliamo alla fine qui invece siamo in una fase in cui esplicitamente voi avete l'utilizzo di una nozione come quella di entelechia una forma immateriale tendenzialmente potete anche pensarla come atemporale ma sicuramente che agisce in maniera estranea al normale svolgimento del tempo che voi osservate prosegue poi Drish permettetemi di prendere a prestito la nostra terminologia ad Aristotele e di chiamare entelechia questo fattore riprendendo proprio dal termine greco dobbiamo usare questa parola solo però come un segno di ammirazione per il suo grande genio non come crogiolo uno stampo che noi riempiamo con nuovi contenuti scusate la sua parola dovrà essere proprio uno stampo che noi riempiamo con nuovi contenuti l'etimologia della parola entelechia ci consente queste libertà perché significa ciò che porta il fine in se stessa poi prosegue qui vi fa capire chi sono i suoi avversari teorici sono quelli che venivano chiamati sostenitori dell'evoluzione interna delle delle caratteristiche embrionali ovviamente erano già erano già molto vicini anche alla teoria dell'ereditarietà ereditarietà darwiniana perché pensavano che dovesse non sapevano ancora che cosa ma Rux e molti altri pensavano che dovesse esserci qualcosa di fisico che fosse il portatore di quei tratti che la teoria darwiniana ormai aveva visto come tratti ereditari non sapevano che cosa ma avevano iniziato a intuire che la multiformità embrionale doveva essere ricondotta in qualche modo all'ereditarietà darwiniana Drish è completamente contrario e qui fa capire che cosa ha in mente per questo tipo di embriogenesi utilizza il termine epigenesi che significa differenziazione secondaria e dice questa differenziazione questa manifoldness questa multiformità che noi vediamo nell'embrione non ha un carattere estensivo perché dice non c'è da nessuna parte fisicamente una moltiplicità una manifoldness antecedente alla morfogenesi ora noi sappiamo che c'è sappiamo che nel DNA è contenuto proprio il nucleo della multiformità futura Drish non lo poteva vedere vedeva soltanto una cellula che si differenziava in un secondo momento per questo la sua posizione è proprio quella di una la chiama intensive manifoldness cioè di una multiformità intensiva difficilissima da spiegare perché ovviamente la costruisce soltanto per contrasto se non può essere estensiva se non può essere nello spazio questa multiformità dovrà essere di un tipo diverso ma sicuramente è più chiaro il ricorso al termine entelechia e lui questo lo sapeva molto bene il ricorso al termine entelechia è proprio fatto apposta per riconnettersi a una tradizione di vitalismo estremamente nota molto prestigiosa per quanto l'aristotelismo ormai fosse stato criticato in molti altri ambiti ma sicuramente è stata una mossa che Drish ci ha fatto in maniera consapevole ora vi dicevo non volevo farvi solo un discorso di tipo di tipo storico ma anche tentare un attimino un azzardo un po' epistemologico nel senso che già quando vi parlavo delle anguille vi facevo vedere che c'è un tipo particolare di ragionamento che sta dietro il ricorso a istanze di tipo finalistico perché nessuno ricorre volentieri a istanze che non si possono vedere se può fare il contrario ricordate Aristotele ricorre alla generazione spontanea solo laddove non ci sono portatori materiali della forma visibili sezionando un pesce come lo sperma o le uova delle anguille o cose di questo tipo e anche Drish lo dice e ne è proprio consapevole dice tutti i nostri risultati sono negativi nella loro forma la loro evidenza passa per quel procedimento che chiamiamo per exclusionem oppure indiretto bisogna escludere sono state escluse da un certo numero di possibilità tutte a parte una e questa e che è il fattore vitalistico che resterà sempre inconoscibile perché di per sé è fuori dallo spazio quindi non si capiterà mai sotto il microscopio è stato mostrato che può essere soltanto quello e del resto dice non vedo come la scienza naturale possa ragionare diversamente le scienze che si occupano dell'inorganico fanno lo stesso qualunque qualcosa di nuovo ed elementare deve essere sempre introdotto quando cioè è noto e quando altri fatti empirici di tipo elementare si provano incapaci di spiegare i fatti soltanto quando non siamo capaci di spiegare altrimenti i fatti dobbiamo ricorrere a questo tipo di istanze ora detto da un neo vitalista convinto è al tempo stesso una missione di grande onestà intellettuale ma anche ovviamente c'è dietro un rischio molto forte cioè il rischio che non appena i mezzi tecnici di indagine della materia ci portano a scoprire degli elementi materiali che facciano lo stesso ruolo che prima svolgeva l'entelechia l'entelechia diventa un processo superato un po' come nel caso di Redi la generazione spontanea non appena abbiamo le capacità sperimentali di capire come avvengono determinati processi a quel punto le teorie della generazione spontanea che sono casi estremi di vitalismo diventano diventano diciamo così superate il secondo caso di neo vitalismo che volevo presentarvi che si riallaccia proprio esplicitamente a Drish i due si conoscevano perché entrambi frequentano questa straordinaria stazione biologica quella di Anton Doer a Napoli e Jakob Von Uxkul è più noto come nell'introduzione diceva prima la collega per i suoi studi sul concetto di Umwelts studi di etologia antelitteram studi di comportamento animale antelitteram diciamo così però era in primo luogo un fisiologo e come fisiologo era molto molto vicino al neo vitalismo di Drish Uxkul è stato tradotto quindi posso qui basarmi su delle citazioni in lingua italiana anche per praticità scrive Jakob Von Uxkul in Teoretische Biologie che è Biologia Teorica la seconda edizione del 1928 qui vi dicevo sono proprio gli ultimi gli ultimi testi che vi fanno vedere come tesi di tipo neo vitalista fossero ancora in circolazione insomma in pieno ventesimo secolo poi pian piano scompariranno completamente scrive Jakob Von Uxkul riallacciandosi a Drish gli evoluzionisti i preformisti i sostenitori delle teorie del mosaico tutti coloro che pensano che ci sia qualcosa di fisico come principio organizzativo hanno sempre tentato di tenere fede al dogma di una struttura invisibile presente sin dall'inizio nell'embrione presupponendo l'esistenza di particelle ereditarie che fossero in qualche modo spazialmente legate le une con le altre torna il tema dello spazio non menziona il problema del tempo perché quello è un problema a mio avviso irrisolvibile nel ricorso a cause finali bisogna ammettere se utilizziamo le cause finali effettivamente qualche tipo di feedback del futuro sul passato e sul presente altrimenti non funzionano se nell'embrione vi fosse una struttura invisibile quando lo si divide anch'essa dovrebbe venire divisa e invece un embrione dimezzato non dà con il suo sviluppo ulteriore due mezzi animali bensì due animali interi dalle dimensioni dalle dimensioni dimezzate non generalizzate qui gli animali sono sempre i due ricci di mare dei drish non gli animali in generale qui sta commentando gli esperimenti di drish la conclusione di fonuxkul è che c'è un ordine non materiale una regola della vita che è l'unico a poter dare alla materia la sua struttura mentre una struttura anatomica in quanto spazialmente estesa può essere distrutta da un intervento anatomico una regola che è per sua stessa essenza incorporea non può essere intaccata dal bisturi qui è molto chiaro lui sta commentando gli esperimenti di drish introduce un termine nuovo che è quello di regola questo è molto interessante perché lo va a prendere da kant che kant come sapete utilizza molto spesso il termine regole per identificare il modo in cui la nostra ragione dà forma all'esperienza si dà forma secondo una regola quello che kant non si sarebbe mai sognato di fare sarebbe stato di usarle in questo modo cioè in maniera non regolativa ma costitutiva cioè dire esistono effettivamente delle regole non sono strumenti della nostra mente ma esistono nella realtà aristotelicamente come l'entelechia di aristotele questo kant non l'avrebbe mai fatto però il termine in uxcul viene da lì è il motivo per cui ad esempio uxcul valuta positivamente Mendel sapete che secondo le leggi mendeliane voi avete un rapporto preciso esprimibile in termini matematici di 3 a 1 nel caso in cui vi ricordate tra i piselli lisci e rugosi voi partite da due cromosomi che hanno entrambi due alleli dominanti e recessivi nella prima generazione le combinazioni portano alla presenza costante di un allele dominante che tiene sotto controllo l'effetto dell'allele recessivo la seconda generazione la ricombinazione numerica vi porta ad avere un 25% di alleli recessivi che si manifestano perché si trovano in coppia questa è la tesi classica di mendel ora von Uckstuhl la legge secondo la sua idea della presenza efficace della regola cioè non dice ci saranno dietro delle strutture fisiche che si combinano in maniera tale da portare a questo risultato questo lo farà poi quando dopo la scoperta del dna con Watson e Crick però lì dobbiamo aspettare gli anni 50 a quel punto poi si inizierà a capire veramente perché Mendel avesse ragione al tempo stesso però si relativizzerà l'importantezza di Mendel perché non tutti i caratteri sono mendeliani però quelli che sono mendeliani funzionano effettivamente così Uckstuhl invece dà un'interpretazione di questo che era ancora inspiegato e di nuovo voi vedete come il finalismo venga utilizzato per spiegare problemi concreti cioè noi non sappiamo perché se siamo contemporanei di Von Uckstuhl e di Drisch non sappiamo perché le leggi di Mendel funzionano sappiamo che funzionano pensiamo che ci sia l'operato di un'entità che è ontologicamente molto misteriosa incorporea a temporale che chiamiamo regola questo lo fa Uckstuhl Drisch preferisce il termine entelechia la cosa interessante è che sarebbe stata poi vedere in che modo Von Uckstuhl dopo il 1928 o Drisch anche se fossero vissuti avrebbero poi convissuto con lo stato posteriore delle conoscenze biologiche cioè nel momento in cui per loro stessa ammissione si deve fare ricorso a nozioni vitalistiche solo quando per esclusione cioè solo quando tutte le altre sono state scartate e lo scrivono esplicitamente se poi si trovano a vedere che effettivamente nascono delle ipotesi alternative a quel punto a mio avviso lo avrebbero dovute accettare però non lo sappiamo di per sé Uckstuhl muore troppo presto e anche Drisch per confrontarsi arrivano fino alla scoperta dei cromosomi ecco Von Uckstuhl arriva alla scoperta dei cromosomi e li definisce come i portatori fisici delle regole so che è una soluzione che vi lascerà abbastanza insoddisfatti perché a quel punto fa esattamente come Aristotele che pensava allo sperma come il portatore fisico della forma che però è immateriale uguale anche Uckstuhl pensa ai cromosomi come ai portatori fisici delle regole soluzione ampiamente vi ricordo per giustizia che Von Uckstuhl non è famoso per questi studi di vitalismo Von Uckstuhl è famoso per gli studi di comportamento animale sul piano diciamo così proprio ipologico cioè ha dato delle bellissime spiegazioni del comportamento di uccelli anfibi pesci che vengono tuttora lette che hanno influenzato moltissimo Conrad Lorenz quindi la sua rilevanza è là non è in questi però è sicuramente anche lui insieme a Drish uno degli ultimi vitalisti e ho cercato di farvi vedere come siano vitalisti molto consapevoli sono degli empiristi punto primo quindi non degli sono degli empiristi che ricorrono alla metafisica se volete a ciò che programmaticamente sta al di là dello spazio del tempo solo quando proprio strettamente necessario e quando non ci sono altre soluzioni al tempo stesso però la loro visione del mondo nel profondo è influenzata da questa consapevolezza che comunque ci sono entità di questo tipo un altro esempio poi veramente inizio a concludere ce l'avete sull'interpretazione della protoplasma e qui anche qui si aprirebbe un ampio spazio allora a metà del diciannovesimo secolo Schleiden e Schwan scoprono con la teoria cellulare il fatto che tutta la materia organica è composta di cellule riescono già a isolare le prime componenti della cellula membrana nucleo e protoplasma tendenzialmente i fondatori della citologia danno un'importanza enorme al nucleo intuitivamente capiscono che lì ci deve essere la spiegazione della morfogenesi della genesi della forma molti altri invece vedono si soffermano sul protoplasma Lionel Billy molte altre persone si soffermano sul protoplasma e lo leggono come una sorta di brodo primordiale che in qualche modo conterrebbe il segreto della vita e quindi anche qui di nuovo torna fuori la tendenza a vedere in qualche modo delle istanze che sono presenti laddove ci sono delle situazioni materiali favorevoli Jakob von Uxkule è uno di questi ecco lui aderisce alle teorie vitaliste del protoplasma e vede il protoplasma come la materia deputata ad accogliere la formazione di regole o l'azione delle entelechie trascurando la funzione del nucleo e per questo sarebbe stato interessante vedere come avrebbe reagito quando qualcuno gli avesse poi detto in futuro che in realtà è il nucleo a portare l'elemento organizzatore e non il protoplasma questa sua teoria la utilizza questa è veramente l'unica incursione che faccio nell'ambito degli organismi nel loro comportamento nell'ambito etologico per spiegare ad esempio la formazione degli pseudopodi dell'ameba a quei tempi il microscopio c'era già potevano osservare questi esserini che hanno un'attività purtroppo parassitaria nel nostro corpo che sono le amebe che riescono a formarsi degli organi temporanei o uno pseudopodo per afferrare del cibo o una bocca oppure anche l'ano e poi li fanno scomparire questo ovviamente sembrava essere di nuovo qualcosa di inspiegabile senza l'intervento di istanze organizzative di tipo superiore e Fuluxkula arriva ad arrivare arriva ad affermare che in questi esserini si mantiene più potenzialità perché sono più vicini allo stato originario della vita che è legato al protoplasma quindi il fatto che siano composti ampiamente di protoplasma lo porta ad affermare che sono quasi più interessanti da studiare di un cavallo perché vedete alla fine scrive in fondo l'ameba per me è meno macchina del cavallo e quindi ha più potenzialità ed è quasi più interessante più affascinante da studiare di quanto non lo sia un cavallo poi dovete un po' qui veramente il discorso sarebbe lungo ma ovviamente il livello embrionale è uguale per tutti lì la potenzialità è massima per tutti i viventi in alcuni afferma Uskul poi da adulti si affermano delle strutture che fanno sì che diventino molto meccanici quindi lui è a metà tra vitalismo meccanicismo chiaramente quando siete di fronte al modo in cui funziona la zampa di un cavallo va benissimo l'interpretazione meccanicistica ma tenete però presente che a livello embrionale e in alcuni animali non si raggiunge mai questo livello così strutturato perché tra l'altro afferma che la struttura inibisce la formazione di strutture e blocca la potenzialità di nuovo utilizzo limitato parziale di tesi vitalistiche in questo caso per spiegare l'apparente plasticità apparente cioè la plasticità è effettiva ma diciamo così quell'inspiegabile plasticità di piccoli di piccoli organismi come la meba che portano a fenomeni estremamente peculiari lo stesso discorso viene fatto sulla rigenerazione ecco di fronte al polipo d'acqua alla salamandra tutti questi animali che rigenerano all'axolot che riesce a rigenerare anche parte del suo cervello sembra impossibile non ricorrere a elementi di tipo extra materiale ma come voi arrivate a distruggere addirittura una parte del cervello di un animale e si rigenera come fa a rigenerarsi se non c'è un principio organizzatore che non è stato toccato e che agisce in qualche modo dall'esterno vi dicevo ovviamente la scoperta del DNA e del fatto che potenzialmente in ogni cellula è contenuta tutto il corpus di istruzioni necessarie porta necessariamente poi a rivalutare questo tipo di ragionamento almeno non che abbia dato tutte le risposte noi tuttora non sappiamo come si rigeneri il cervello dell'axolot però sapere che comunque in ogni cellula le informazioni ci sono ci spinge a cercare in quella direzione piuttosto che ad uscire dalla materia ed andare in direzione di una spiegazione di tipo vitalistico ultimissime slide però di tipo molto più leggero il giudizio di un contemporaneo che è Conrad Lorenz su questi vitalisti molto particolari che sono Drish e Von Uxkul Lorenz è stato un allievo di Von Uxkul un allievo legato al maestro da quelle tipiche relazioni di ammirazione e odio che portano poi a parricidi spietati come è questo che vedete qui nella slide questa è una conferenza che Lorenz non ha mai pubblicato ma l'ho trovata nell'archivio ad Altenberg di Lorenz e l'ho tradotta scrive Lorenz ex post nel 48 Uxkul era morto da 4 anni Uxkul era un vitalista un feroce idealista un kantiano idealista perché quelle regole di cui vi parlavo prima sono degli enti ideali per Uxkul alla fine anche l'entelechia di Drish è più aristotelica ma le regole vengono da Kant e quindi gli attirano anche l'accusa di idealismo in realtà un nemico della scienza naturale perché tra l'altro l'ambiente di ogni uomo è separato ma questa è la parte che non ho fatto leggendo ciò che scrive in materia di filosofia e visione del mondo a un naturalista si rizzano tutti i capelli in capo ma con quella doppia vita che spesso hanno i naturalisti di impostazione idealista in fisiologia egli è anche il più preciso sperimentatore che si possa immaginare Testaldo fino a essere leggermente folle geniale fino alla punta dei capelli vedete c'è sempre tutta la conferenza è così è una botta è un complimento è tutta alternata in questo modo quello che interessa a noi è questo i vitalisti anche gli idealisti in biologia nel novecento devono avere in certo modo una doppia vita non possono più essere come Aristotele i rappresentanti di una visione del mondo complessiva che in qualche modo è auto evidente ma devono giustificare caso per caso ogni singolo ricorso a tesi vitaliste vi dicevo che anche Aristotele lo fa perché quando usa tesi vitaliste estreme come quella della generazione spontanea anche lui lo fa in casi mirati caso delle anguille è solo perché nessuno ha mai visto delle uova di anguille sventrando un'anguilla adulta che io ricorro alla generazione spontanea perché quando invece vede o dei piccoli pesci oppure le uova nel ventre del pesce non lo fa assolutamente qui c'è una spiegazione migliore che è quella in cui almeno abbiamo un portatore materiale della forma che è lo sperma eccetera eccetera lo fa soltanto con casi necessari quando utilizza i casi più estremi di vitalismo e ovviamente le cose continuano a diventare sempre più problematiche quanto più ci avviciniamo all'epoca contemporanea e quindi arrivati nel ventesimo secolo voi trovate questi giudizi di doppia vita che Lorenz propone tra l'altro è una battuta un po' cattiva anche Lorenz non è esente da rimproveri di doppie di doppie morali però in altri ambiti in ambiti politici e non in ambiti in ambiti di biologia teorica ultimissima sì ultimissima slide lo stesso giudizio Lorenz lo propone per tutti i vitalisti contemporanei non soltanto Uxkul come nel 48 ma poi negli anni 50 quando pubblica il manoscritto che scrive nel periodo di prigionia in Russia scrive che uno nel suo cuore creda un'area soprannaturale non indagabile è una questione di fede ma come ricercatori non si può che essere meccanicisti e anche tutti i grandi scienziati vitalisti da Müller a Claude Bernal a Uxkul a Drish hanno conseguito i loro risultati più validi e duratori quando hanno affrontato i fenomeni della vita con ipotesi di lavoro puramente meccanicistiche come ricercatori anche loro erano meccanicisti adesso io non so se sarebbero stati d'accordo ovviamente però il problema che Lorenz sottolinea è effettivo cioè come si può essere vitalisti poi ancora in pieno ventesimo secolo concludo con la cosa che vi dicevo prima la scomparsa di questo tipo di vitalismo cioè del ricorso esplicativo a forze o istanze sovramateriali tendenzialmente anche extratemporali probabilmente tutto questo è storia l'altra parte del vitalismo cioè la teleologia invece viene vista da molti epistemologi come una tentazione ricorrente vi faccio un esempio solo perché altrimenti parlo veramente troppo ma una genetista come Evelyn Fox Keller di fronte alla tesi darwiniana che le mutazioni genetiche fossero del tutto accidentali e casuali non la riesce ad accettare fino in fondo e postula l'esistenza di geni che si occupino di stimolare le mutazioni di altri geni vi chiamava geni mutatori cose di questo tipo ovviamente anche lei si appoggiava sul fatto che lei scrive negli anni se non sbaglio negli anni 60 ma si appoggiava sul fatto che al tempo molta parte del codice genetico non era stata ancora sequenziata e non solo ma di molta parte non si conosceva la funzione voi sapete che nel codice genetico non tutto codifica effettivamente tratti fenotipici non tutto si traduce in caratteristiche del corpo oppure e quindi c'è una ampia parte che al tempo la chiamavano junk DNA che vuol dire DNA spazzatura ma poi hanno smesso di farlo perché ci sono reso conto che bisognerà pur trovare una funzione anche per questo Evelyn Foxkeller viene in una fase precedente e anche lei cede la tentazione di pensare che queste zone del DNA per caso non possano avere un'azione teleologica cioè essere in qualche modo finalizzate lo stesso poi lo fa Gould quando pensa al genoma del cambriano adesso veramente potrei divagare troppo su con il discorso era questo scompare il vitalismo di tipo aristotelico l'idea di forze immateriali sovratemporali non scompare la teleologia alcuni affermano che è un bene che non scompaia non perché vada presa alla lettera probabilmente il finalismo ma perché è uno stimolo incessante a cercare di decifrare ciò che non si è ancora decifrato o perché qualcuno dà un'interpretazione diversa dalla nostra o perché effettivamente può dare delle intuizioni delle idee guida per cercare di capire le zone non ancora chiarite dello studio del vivente bene mi fermo direi non ho provato un'ora e lasciamo spazio al dibattito niente benissimo direi ampia e approfondita questa questa lunga carrellata dall'antico fino alle ai nostri giorni insomma io mi sono segnata alcuni passaggi comincio io e poi poi lascio lascio le domande direi che potremmo pensare la natura come la natura ha una neutralità teleologica è indifferente al processo perché come lei ci ha spiegato c'è odore di metafisica direbbe Foucault quindi quando si fa entrare la causa finale si comincia a ragionare di dispositivo potremmo parlare di processo allora sì è una bellissima domanda secondo me si può parlare di processo senza introdurre cause finali ci sono almeno due autori nel novecento che l'hanno fatto cioè Whitehead e soprattutto Nicolai Hartman che io che conosco meglio che limitano le cause finali soltanto alla sfera della rappresentazione umana cioè soltanto laddove c'è un essere capace di rappresentazione può esserci una vera causa finale la causa finale è uno stato futuro del processo che in qualche modo deve essere fatto valere anche nel presente se non c'è un mediatore c'è qualcuno che si rappresenti questo stato futuro e lo faccia intervenire a livello attuale nel processo secondo Hartman non si può parlare di cause finali in senso stretto io tendo a essere d'accordo in questi termini va detto però che anche von Hartman che anche scusate che anche Nicolai Hartman ammette che c'è un tipo di determinazione che è peculiare della materia organica che non è ancora stato pienamente compreso a livello ontologico e che non va confuso però con la teleologia di tipo aristotelico è una sorta di ammissione di un ambito ontologico un po' tutto da indagare lui lo chiama il nexus organicus ma è chiaro che dare un nome per quanto in latino non risolve assolutamente il problema quindi lui individua dei nessi di determinazioni meccanici nella materia inorganica dei nessi di determinazione finali solo laddove con l'essere umano c'è un rappresentante dello stato futuro del processo e come Kant dal resto individua nell'organico nella sfera dell'organico una sfera ontologica in cui c'è un tipo di determinazione che va ancora compreso che assomiglia alla teleologia ma non lo è ecco questa è so che è una risposta che non soddisfa però è tendenzialmente quella che mi sento di dare quasi che la natura si modula nel suo far sì certo alcune caratteristiche della teleologia aristotelica devono essere mantenute tra cui l'autoorganizzazione questo anche Hartman lo dice il punto è l'autoorganizzazione rimanda necessariamente a cause finali oppure dobbiamo identificare delle cause antecedenti di tipo particolare che non abbiamo ancora trovato che ci riescano a spiegarla e la sua seconda la sua ipotesi è questa che le cause da ricercare vadano nel dominio dell'antecedente e che però siano di un tipo qualitativamente diverso rispetto a quelle che dominano l'inorganico vediamo se ci sono domande da chi ci ha ascoltato anche curiosità è veramente se ci sono punti anche c'è un passaggio della sua relazione alcuni passaggi il dogma di una forza invisibile allora dovremmo pensare all'anima mundi dovremmo andare veramente nella storia della filosofia a ripercorrere è come se avessimo saltato un'intera allora qui io mi sento di bisognerebbe un po' questo passaggio sì sì nel momento in cui si introdusse il termine anima il discorso si fa interessante ma non è è del tutto legato perché già per Aristotele l'anima è la forma del corpo quindi il discorso sull'anima è necessariamente legato a questo discorso delle cause finali nel caso di enti come l'essere umano si aggiunge quella particolare forma organizzativa che è l'anima razionale questo spiega un po' le peculiarità dell'umano quello che vorrei però sottolineare è che secondo me l'introduzione dell'anima non rompe il contesto empirista di Aristotele adesso cerco di spiegarmi meglio se pensiamo al de anima Aristotele afferma che noi dobbiamo prima di indagare che cosa sia l'anima in sé indagare a che cosa ci serve cioè quali sono gli oggetti con che noi attingiamo tramite l'anima e qui è una impostazione molto quasi ambientalista nel senso ampio di ambiente mi spiego subito allora l'anima vegetativa ci serve per rapportarci a quelle componenti dell'ambiente che sono il nutrimento e l'acqua anche qui molto teleologica la spiegazione l'anima vegetativa è già preordinata a quegli elementi l'anima sensitiva di nuovo ci guida nel nostro rapporto con gli oggetti sensibili e l'anima razionale che poi diventerà metafisica ma in origine è quella parte dell'anima che ci consente il rapporto con gli enti matematici e logici per Aristotele lui fa l'esempio della diagonale così come l'anima sensitiva ci mette in rapporto con ciò che è sensibile nella realtà l'anima intellettiva ci mette in rapporto con ciò che nella realtà è intellettivo e l'immaterialità dell'anima razionale si spiega per il fatto che gli enti che deve andare ad attingere sono essi stessi immateriali perché se c'è una cosa che Aristotele non mette mai in dubbio è che il simile conosce il simile e se per conoscere l'ente sensibile dobbiamo avere qualcosa di connaturato che è il nostro corpo per conoscere un ente immateriale che è però un ente logico in primo luogo come la diagonale la nostra anima razionale dovrà essere anch'essa immateriale questo secondo me è a tal punto vero che non c'è nemmeno la necessità per Aristotele che quest'anima razionale sia declinata individualmente così come nessuno di noi o meglio personalmente così come nessuno di noi pretende che i suoi sensi siano personali individuali anche l'intelletto in Aristotele sembra essere quasi una facoltà collettiva a tal punto che poi a vicenda potrà parlare di un intelletto distribuito su tutti i vari su tutti i vari esseri viventi questo lo dico perché è vero che c'è una potenziale metafisica di tipo deteriore in Aristotele perché effettivamente si afferma che c'è un'anima o una parte dell'anima che è immateriale ma non è assolutamente la stessa cosa che dice Tommaso quando dice che c'è un'anima immateriale perché a Tommaso non serve una funzione dell'anima che poi che il simile conosce il simile ci mette in relazione con enti logici o meglio gli serve questo ma gli serve anche un soggetto razionale dal punto di vista morale che sopravviva al corpo e che sia individuato e quindi da lì poi c'è la creazione individuale delle anime eccetera eccetera in Aristotele io tutto questo non l'ho mai trovato cioè in Aristotele l'anima è forma organizzativa ed è una forma organizzativa talmente differenziata che ci consente anche di entrare in rapporto con degli enti immateriali che però in primo luogo sono di tipo logico numeri diagonali enti universali o cose di questo tipo semmai si potrebbe contestare il fatto che non è detto che il simile si conosca il simile ecco che se c'è un presupposto implicito in Aristotele è proprio questo e noi oggi invece tendenzialmente diciamo ma perché perché mai se va bene ammettiamo pure che ci siano enti logici di tipo immateriale ma perché questo dovrebbe richiedere in noi qualcosa di immateriale potremmo anche conoscerli per contrasto o cose di questo tipo quindi questo semmai è un po' il punto spero di non aver divagato ma effettivamente l'anima poi è una risorsa vitalista che continuerà a essere presente con Stahl ad esempio nel Settecento chi non usa il termine intelechia usa il termine anima io l'ho un po' evitato perché il termine intelechia è più quasi più pulito in biologia teorica va proprio al fine va proprio dritto al fine cioè spiegare l'embriogenesi ecco spiegare direttamente l'embriogenesi mentre a volte il ricorso al termine anima non è così così preciso prego c'è una domanda no ti volevo chiedere se puoi dire qualche cosa sulla come dire dialettica tra finalismo e meccanicismo nel campo della della biologia dell'evoluzione insomma se diciamo in che misura quel dibattito lì che forma prende naturalmente certo in quel campo invece allora ciao che mi ero segnato anche un attimo un punto su questo ok il concetto di entelechia oltre ad avere i due problemi che vi dicevo prima quello dello spazio e quello del tempo ha anche un problema ulteriore che è il fatto di essere legato a una concezione fissista delle specie fondamentalmente cioè per Aristotele le essenze essendo immateriali e atemporali sono anche incorruttibili questo fa sì che la sua visione non sia assolutamente evoluzionista e questo prosegue poi nella storia anche della della biologia teorica posteriore con l'arrivo della tesi darwiniana ovviamente si rinuncia al fissismo e si inizia a cercare di capire come si possa spiegare la trasformazione anche delle specie cosa che non era ammissibile in termini aristotelici classici ma che subito è stata ricompresa nell'alveo del finalismo pensate anche soltanto alla Mark ecco la Mark è un evoluzionista di tipo finalista per la Mark l'utilizzo di un determinato organo lo potenzia quindi in qualche modo la funzione che ha un fine retroagisce sulla modificazione della specie quindi qui subito si introduce una forma di finalismo ora a mio avviso Darwin invece cerca proprio sistematicamente di togliere qualunque elemento finale di finalismo della sua teoria se noi tendenzialmente le parti costitutive della teoria darwiniana classica sono tre le mutazioni contingenti di un organismo la pressione selettiva da parte dell'ambiente e l'ereditarietà in nessuno di questi tre punti si trova finalismo chi lo vede nel secondo punto chi lo vede nel primo punto sbaglia per un motivo molto semplice che le mutazioni sono ad amplissimo raggio pensate all'esempio classico della giraffa ad ogni generazione nascono giraffe col collo un po' più alto altre col collo un po' più basso e altre col collo standard quindi qui non c'è nulla di finalizzato la pressione selettiva il termine stesso di pressione mi fa capire che questo è meccanicismo cioè qui le risorse sono poche bisogna competere e soltanto chi ha un leggero vantaggio marginale riesce a sopravvivere e neanche nell'ereditarietà si può trovare si può trovare finalismo perché darwin la pensa nei termini di una semplice trasmissione di caratteri tendenzialmente chi vuole introdurlo ora non è mai tutto così semplice in certi punti anche darwin sembra mettere l'ereditarietà dei caratteri acquisiti in vita in altre pagine non lo fa però tendenzialmente la teoria classica è questa dove viene introdotta poi la finalità dai darwinisti che come Evelyn Foxkeller o come Gould cercano di reintrodurre un qualche elemento di plasticità ulteriore perché tendenzialmente le sole mutazioni contingenti io tendo a evitare il termine di casuali perché non mi piacciono preferisco dire mutazioni contingenti cioè nel senso che non sono pianificate hanno delle cause perché tutto in natura ha delle cause solo che non sono cause di tipo non sono cause finali le mutazioni hanno delle cause possono essere un elevato tasso di radioattività o cose che non sappiamo problemi effettivi però nella replicazione del DNA io penso che effettivamente tutto abbia una causa e quindi di casuale non ci sia nulla però sono tutte cause di tipo antecedente e quindi sono cause di tipo contingente ora vi dicevo chi vuole integrare dopo darwin la visione dell'evoluzione introducendo dei fattori che aumentino il tasso di adattamento in maniera finalizzata lo fa di solito lavorando a livello di genoma come Evelyn Foxkeller o come Gould ecco Gould arriva a sostenere che i genomi del passato erano più plastici e uscilla tra una una idea di plasticità come semplicemente c'erano molte più mutazioni o un'idea invece che questo mi sembra il caso di plasticità che afferma che le mutazioni non erano piccole ma erano dei piani di costruzione complessivi degli organismi quindi voi passavate con maggiore facilità che so dalla tipo anfibio al tipo rettile per intenderci lui lo fa trovando dei fossili che sono molto diversi nel loro piano di costruzione da tutto quello che poi si è mantenuto e pensa che nel Cambriano nell'epoca geologica del Cambriano questo fosse molto più comune ora è evidente che pensare a cambiamenti complessivi deve in qualche modo ritornare a postulare forme di auto organizzazione che non siano legate soltanto all'accumulo di piccole mutazioni casuali e graduali contingenti e graduali e lì rientra dalla finestra in qualche modo la finalità l'auto organizzazione almeno quel tipo di finalità che è inizita in una maggiore capacità di auto organizzazione il problema qui è che sono tutte ipotesi altamente speculative tendenzialmente cioè postulare sia dei geni che si occupano di incrementare il tasso di mutazione sia postulare come Gould l'idea che i genomi del passato fossero più plastici più attivi più propositivi come fa questi sono termini proprio di Gould non ha ritrovato delle prove effettive ma ci sono molti altri studiosi che vanno in questa direzione Piatelli-Palmarini Gerry-Fiodro sono tutti i studiosi che vanno a cercare delle integrazioni al darwinismo classico che reintroducano non ovviamente la causa finale in maniera proprio diretta cioè l'idea che c'è un fine da raggiungere ma che introducano almeno forme di auto-organizzazione di livello superiore alla sola mutazione casuale contingente che tra l'altro ha bisogno di tantissimo tempo che a volte sembra che tutto questo tempo non ci potesse essere o non ci possa essere come diceva Darwin c'è un'altra domanda grazie per questa bellissima panoramica e anzi per questa analisi davvero molto approfondita di questo problema del neovitalismo avevo una curiosità e mi riallaccerei di nuovo alla questione della metafisica allora diciamo io sono d'accordissimo sul fatto che in Aristotele nelle ricerche di Aristotele le ricerche biologiche zoologiche anche la psicologia appunto di fatto per Aristotele il legame tra l'operazione e la facoltà è fondamentale quindi mi chiedevo questo in Aristotele poi c'è anche la metafisica nel senso che c'è anche poi il primo motore immobile che costituisce poi la causa ultima e finale ora in Aristotele però non si arriva alle forme di finalismo che ci saranno poi successe il teleologismo universale che ci sarà per esempio con i neoplatonici e con i medievali in cui tutto di fatto è finalizzato a quella causa finale un appetitus cause prime che occorre tutta la realtà anche la realtà immateriale ora io mi chiedevo questo per farla breve esiste in tutti questi discorsi riferimento a qualche cosa non soltanto di immateriale ma qualcosa anche di trascendente di ultimo mi chiedevo se qualcosa del genere possa aver giocato un ruolo in questo dibattito del neofinalismo anche alla luce del fatto che poi appunto Lorenz dice che quest'area soprannaturale non indagabile è una questione di fede quindi sembra proprio rimandare ad una dimensione ulteriore rispetto a quella della scienza certo allora vorrei rispondere in due momenti il primo è sulla questione del motore immobile che devo dire io non sono veramente qui non sono un esperto però mi sembra di cogliere una certa affinità tra la teoria del motore immobile e la teoria dell'anima razionale nel modo in cui ne parlavo prima nel fatto che anche il motore immobile alla fine deve risolvere dei problemi cioè deve risolvere dei problemi legati effettivamente al movimento cioè sono dei problemi di tipo fisico semmai anche qui c'è l'azione di un presupposto che anche secondo me Aristotele non ha mai messo in dubbio cioè sul fatto che non si possa dare un regresso all'infinito no? C'è un certo timore proprio che ci sia il regresso all'infinito che lo porta a trovare il modo di fermare la possibile catena di rimandi di che cosa ha messo in moto che cos'altro cosa che secondo me poi adesso ovviamente di fisica ne so poco però tendenzialmente in seguito ci sia si ha sempre avuto l'aspirazione invece a capire il livello successivo piuttosto che a fermare anche quando si penetra nei livelli della materia anche lì gli antichi avevano paura del regresso all'infinito non si può continuare a dividere l'atomo a un certo punto bisogna fermarsi la scienza contemporanea invece dice ma vediamo cosa riusciamo a fare al livello immediatamente successivo poi se ci dovremo fermare ci fermeremo insomma prima o poi quindi questo su Aristotele io vedo comunque un certo una certa aderenza alla realtà anche nella teoria del motore immobile però qui veramente non sono un esperto per quanto riguarda invece la seconda questione che mi pone è molto interessante andarla a ricostruire nella genesi fondamentalmente nell'influenza di Leibniz perché Leibniz è un po' il grande il riferimento nascosto di Von Uxkul per quanto riguarda quest'idea di un'armonia che non si vede che dicevi tu di un'armonia nascosta non si sa se Uxkul l'abbia letto in prima persona però sicuramente ha preso da Kant tutto quello che in Kant ancora c'è di potenzialmente Leibnizianos l'idea del soggetto singolo come monade che però ha dei collegamenti trascendentali con qualunque altro soggetto e che crea un mondo dell'esperienza che è condiviso ecco questo sicuramente e Leibniz ha avuto molte influenze anche in biologia teorica al punto tale che l'idea di monade in quanto ente spirituale è stata molto spesso accostata a quella di entelechia ecco secondo me se c'è un legame tra l'ambito della metafisica come lo intendiamo noi filosofi e poi questo tipo di rappresentazioni che comunque restano finalizzate all'uso pratico diciamo così della biologia io la vedo in Leibniz tendenzialmente tra l'altro non vi ho parlato del livello metafisico ultimo di Von Uxkul perché io mi sono limitato Von Uxkul sperimentatore cioè fino al 1928 Uxkul è stato un personaggio molto strano perché non è mai riuscito ad entrare in università sempre lavorato come libero ricercatore con la prima guerra mondiale ha perso tutto il patrimonio perché i suoi possedimenti di famiglia erano in Estonia sono stati occupati dai russi lui ha perso tutto da quel momento in poi non può più fare ricerca empirica perché si pagava gli esperimenti i soggiorni nelle varie stazioni zoologiche e inizia a diventare molto speculativo ecco qui inizia la seconda fase non potendo più fare questo tipo di ragionamenti legati alla risoluzione di problemi concreti sia pure con ipotesi vitalistiche inizia a andare veramente lì sì nel metafisico a quel punto vede una teleologia complessiva nella natura affidata a un'istanza programmaticamente invisibile inaccessibile che lui chiama il fattore naturale il fattore naturale è il livello ultimo è quello che decide in qualche modo poi tutte le altre entità di cui vi parlavo prima le regole le entelechie ecco qui non mi avventuro volentieri perché lì il cantiano che è in Medici e qui veramente siamo andati molto lontani dal livello dell'osservazione tra l'altro anche Ux si teneva molto a livello dell'osservazione però va detto per onestà che alla fine in un a caso in un a caso in questa seconda fase accanto al recupero di Aristotele che è tipico di tutto il neo vitalismo recupera anche Platone e la visione diventa neoplatonica esattamente come dicevi tu quando la metafisica si fa seria a quel punto la teleologia non è più soltanto per risolvere il problema del riccio di mare ma diventa una visione complessiva della realtà se non ci sono altre domande io porrei l'ultima questione che a me è molto cara dell'area francese allora quando diciamo che sosteniamo che il possibile non può non manifestarsi questo passaggio che io prendo dal suo testo dedicato ad Hartman mi viene in mente che togliere parlare di processo e accostato al sistema dei viventi quindi dell'essere umano potrebbe anche cambiare quello che è lo statuto antropologico dominante dell'essere umano mancante fragile debole quindi io mi domando se è pertinente questo aggancio quindi se possiamo immaginare che dalla scienza da questi studi biologici noi possiamo immaginare anche un essere umano che non è finito non è fragile non ha non ha una direzione che deve raggiungere ma dentro di sé ha una processualità io non so se è un è un bel salto nel senso che è un cambiamento di statuto antropologico o no? sicuramente Nicolai Hartman sicuramente lui non accettava le tesi dell'essere carente di Ghele né di molti altri Nicolai Hartman è molto sobrio nella sua impostazione preferisce vedere gli aspetti di specializzazione dell'essere umano piuttosto che l'accusa di essere un essere non specializzato e carente eccetera la particolarità della visione antropologica di Nicolai Hartman è l'idea dell'uomo come capace di cogliere un dominio di valori che restano comunque i materiali e trasporli nella materia organica e nella materia inorganica in questo semmai c'è una sorta di esaltazione dell'essere umano in un contesto completamente laico questi valori non sono per nulla legati a una divinità a una sfera del trascendente restano anche molto misteriosi in che modo si possa parlare di valori dal punto di vista di un'assiologia del tutto ontologizzata cioè soltanto come purienti che esistono in sé ma quello che è interessante è che per proporre questa visione dell'essere umano che realizza determinati valori nella realtà Hartman svuota di senso tutto ciò che è la realtà cioè per Hartman per Nicolai Hartman la realtà è priva di per sé di senso ha dei meccanismi dei processi dei processi anche non compresi come quelli organici che hanno tipologie di determinazione molto particolare ma è proprio perché non c'è finalità nella natura che l'uomo riesce a introdurvela se ci fosse così ragiona Hartman se ci fosse una finalità preesistente nella natura l'uomo avrebbe una concorrente troppo forte e non riuscirebbe a introdurre quegli elementi di senso che è l'unico ente a saper cogliere questo è semmai un po' il punto a cui ci si può realizzare prendendo l'idea di Nicola Hartman del resto è coerente con quello che dicevo prima le uniche cause finali per lui sono quelle che può introdurre la mente umana perché si rappresenta stati futuri ma questo questo prima non l'ho detto è possibile solo perché non ci sono altre catene di determinazione causale di tipo teleologiche attivo nel vivente quindi l'uomo ha un po' uno spazio da colonizzare chi di voi avesse colto le possibili implicazioni ecologiche vi dico ha perfettamente ragione Hartman si rende conto che così facendo non c'è nulla che possa impedire all'essere umano di trasformare la realtà in maniera radicale e le uniche lì non era particolarmente interessato alla questione ecologica si limita a un certo punto a scrivere va benissimo che noi possiamo introdurre qualunque senso nella realtà perché la realtà non ce l'ha però cerchiamo anche di non segare il ramo che ci sorregge ecco si limita questa osservazione un po' se il senso che diamo alla realtà è quello del consumo sfrenato e dell'utilizzo indiscriminato delle risorse se il nostro senso ci richiede questo allora stiamo attenti che ecco non ovviamente l'ecologismo contemporaneo molto spesso non ha questa visione preferisce pensare che la realtà sia già piena di senso che il senso vada rispettato l'autoorganizzazione dei sistemi biotici ad esempio l'ecologia è già una forte proposta di senso però non è quella di Hartman assolutamente effettivamente si risolve come dice lei in un'esaltazione del ruolo dell'essere umano per nulla fragile per nulla carente che però deve stare anche attento a non segare il ramo su cui sta seduto e possiamo chiudere io vorrei prima di dare il mio rivederci vorrei citare semplicemente il senso che abbiamo provato a compiere con questo ciclo citando dal dal testo molto approfondito del professor Brentari il cerchio del possibile che citavo prima nella presentazione in cui sostanzialmente Hartman esprime un giudizio piuttosto severo sulla frammentazione delle scienze naturali e auspicava ad una relazione interdisciplinare ad una chiedo scusa ad una integrazione interdisciplinare e cito secondo cito professore quindi lo omaggiamo e lo salutiamo secondo Hartman in altri termini la frammentazione della natura come oggetto dell'indagine scientifica non è un dato originario ma è il portato della frammentazione delle discipline che se ne occupano ed è compito della filosofia e qui potremmo dire senza alcuna primazia rispetto alle altre ovviare a questa situazione mi piaceva chiudere arrivederci e lascio il posto al presidente responsabile scientifico sì grazie tolgo la mascherina per respirare un po' grazie a coloro che ci hanno seguito oggi io sono molto contento dell'esito di questo ciclo di conferenze e sono molto soddisfatto perché siamo riusciti appunto nell'intento di realizzare quel dialogo tra i saperi a partire da una prospettiva che è la prospettiva che conosciamo che è quella filosofica e cercando appunto come diceva giustamente Elisa Gelmini di evitare ambizioni di supremazia della filosofia sugli altri saperi che spesso hanno portato a conseguenze tristi e sono contento perché come ha dimostrato anche l'ultimo intervento di Carlo Brentari questo tentativo è stato fecondo perché ha messo a confronto approcci metodologici e prospettive di ricerca di carattere diverso e questo credo che abbia suscitato interesse nel pubblico almeno è quello che abbiamo riscontrato vedendo qual è stata la presenza in sala e anche il numero dei contatti a casa quindi abbiamo capito sostanzialmente che questo tipo di indagine di approfondimento incontra un interesse che va al di là di quello degli specialisti quindi sicuramente questa è una cosa positiva sono anche contento perché è bene parlare anche ad un pubblico più vasto rispetto a quello specialistico dei colleghi insomma di noi accademici e anche degli studenti quindi sono molto lieto di aver contribuito a questo ciclo che si è tenuto qui all'interno dell'Accademia degli Agiate di questa bellissima sala non ho da aggiungere altro consentitemi soltanto di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa serie di eventi innanzitutto l'Accademia degli Agiate un grazie particolare va al presidente Stefano Ferrari che ha sostenuto questo ciclo e tutto quello che tutti gli aspetti collaterali che potete immaginare un ciclo di questo tipo comporta ringrazio anche Ingrid Zenari per il supporto tecnico sempre prezioso e puntuale ringrazio tutti i relatori e le relatrici che cito nell'ordine Elena Franchi Milena Mariani Carlo Brentari Federico Laudisa che oggi è presente in sala Andrea Pinotti e ringrazio infine Elisa Gelmini che insieme a me ha organizzato questo ciclo senza la quale queste conferenze non si sarebbero potute realizzare grazie Permettete anche a me di fare alcune considerazioni finali a conclusione di questo bellissimo ciclo che abbiamo iniziato il 17 febbraio e che si è concluso oggi come Presidente dell'Accademia ritengo che sia stato un ciclo estremamente importante per cucire in maniera molto stretta i rapporti tra l'Università e la nostra e la nostra Accademia Alessandro Palazzo l'ho appena ricordato talvolta i ragionamenti soprattutto quelli diciamo più elevati hanno bisogno di un confronto con un pubblico più ampio proprio per verificarne in qualche modo la traducibilità la concretezza la efficacia e se questo diciamo è un obiettivo raggiunto attraverso il ciclo io personalmente mi ritengo estremamente soddisfatto mi unisco nei ringraziamenti a tutti i relatori che sono già stati citati e rivolgo questa volta lo faccio proprio con con estremo piacere un grazie veramente di cuore ai due artefici del del ciclo cioè Alessandro Palazzo e Delisa Gelmini i quali non soltanto con grande generosità e con grande competenza ci hanno permesso appunto la realizzazione di questa diciamo carellata di alte relazioni ma devo dire la verità sono stati dei compagni di viaggio con cui è stato piacevole ragionare riflettere e fare anche voglio dire delle conclusioni ex post dopo i diversi i diversi interventi concludo veramente dicendo che gli organizzatori di questo ciclo Alessandro Palazzo e Elisa Gelmini stanno ragionando stanno pensando ad una terza edizione di questo ciclo per il prossimo anno cioè per il 2023 questo a noi fa ovviamente molto molto piacere perché io ritengo che il ciclo sulla filosofia all'interno dell'Accademia degli Eggiati sia diventato un appuntamento in qualche modo che molte persone attendono lo abbiamo visto proprio dai partecipanti sia in sala in presenza sia da da casa c'è molto interesse c'è molta curiosità e ritengo che un terzo ciclo potrebbe proprio andare nella direzione di soddisfare questa domanda di filosofia che c'è all'interno della città di Rovereto e che grazie diciamo all'Accademia e ai due diciamo responsabili del ciclo riusciamo in qualche modo a soddisfare grazie e buona serata tutto